Noi, pastori delle varie comunità cristiane, insieme ai fedeli delle diverse confessioni, ci riuniremo spiritualmente per invocare Dio con la preghiera del Padre nostro. Uniamo le nostre voci di supplica al Signore in questi giorni di sofferenza, mentre il mondo è duramente provato dalla pandemia. Voglia il Padre, buono e misericordioso, esaudire la preghiera concorde dei Suoi figli che con fiduciosa speranza si rivolgono alla Sua Onipotenza. Rinnovo a tutti anche l'invito a partecipare spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione al momento di preghiera di dopodomani, venerdì alle ore diciotto, sul Sagrato della Basilica di San Pietro. All'ascolto della parola di Dio e l'adorazione del Santissimo Sacramento, seguirà la benedizione urbi e torbi con annessa l'indulgenza plenaria. All'ascolto della parola di Dio e l'adorazione del Santissimo Sacramento,